Dottor Caroccia, oggi vogliamo parlare con lei di alcuni progetti molto importanti per il futuro della nostra città. Parliamo della riqualificazione della Darsena, del secondo tratto di Via Torre Clementina e della creazione di un nuovo plateatico per spostare il mercato del sabato da Via Foce Micina. Vogliamo cominciare a parlare della Darsena. Quali saranno i lavori previsti? Sì, per la Darsena, come avete visto, già abbiamo fatto un primo percorso di pista ciclabile che si lega a Via Letraiana, al Ponte 2 Giugno, a Lungomare della Salute. Ma il progetto dell'amministrazione è ambizioso e molto più complesso, nel senso che lì abbiamo una parte dedicata ai parcheggi, in quel tratto è previsto un progetto di ammodernamento con un allargamento della parte commerciale. Mentre per quanto riguarda la parte dove è oggi il cavannone dell'ex Christcraft, in quel punto noi stiamo prevedendo, intanto abbiamo scritto la dottoria portuale che è la proprietaria dell'area. Abbiamo espresso l'intenzione dell'amministrazione comunale che è quella di fare lì una piazza chiusa, non una piazza dedicata ai parcheggi, ma una piazza chiusa per fare le feste, per permettere ai bambini e alle persone anziane di soggiornare in quel punto e di stare liberi senza il passaggio delle autovetture. Abbiamo previsto anche sul progetto di richiesta anche un palco, perché in quel punto può essere utilizzata anche quell'area come eventi che facciamo anche durante tutto quanto l'anno. Quindi uno spazio dedicato alle città o uno spazio a disposizione dei nostri concittadini. Mentre per quanto riguarda la parte del plateati, anche lì siamo in un punto avanzato, abbiamo fatto il progetto esecutivo e stiamo già andando in Consiglio Comunale per l'autorizzazione per poi passare alla parte successiva, che è quella della richiesta mutuo. Poco oltre i 2 milioni, fatto questo passaggio in Consiglio Comunale, si chiederà al mutuo e poi si farà la gara di approvazione del progetto, di esecuzione del progetto stesso. È un progetto ambizioso, è un progetto con lo spazio per i 148 banchi che oggi sono presenti in via Foce e Micina, saranno spostati in quell'area, lì a ridosso di Coccia e Micina, vicino al Risparmio Casa, che è di Fiumicino, mi capisce, in quello spazio incolto che oggi è incolto. In quel punto i 148 banchi del mercato, così liberiamo via Foce e Micina dal traffico, dalle emergenze del sabato, che è un mezzo di emergenza che chiaramente non passa perché c'è il mercato, quindi facendo questo primo passo permetteremo ai miei banchi di passare da quest'altra parte. Questo solamente per il sabato, per gli altri giorni quello è uno spazio dedicato a circa oltre 400 posti macchina, quindi posti macchine delle persone che possono parcheggiare ed andare in aeroporto e prendere il bus per andare a Roma, quindi un punto anche di concentramento. In quel punto saranno previsti anche i parcheggi di tutti quanti i bus che oggi vediamo sparsi per il territorio, quindi saranno concentrati tutti quanti in quel punto di raccolta, diciamo. In quel punto abbiamo previsto anche un chiosco bar delle strutture commerciali con dei bagni, in modo da permettere a chi aspetta l'autobus di giorno o di notte avere i bagni a disposizione, avere un punto di ristoro a disposizione, avere la pubblica illuminazione che mette in sicurezza anche tutta quanta la parte dei nostri concittadini, quindi adesso ho spiegato in maniera concentrata. Sì, poi lei ha detto che quella diventerà la futura porta della città. La futura porta della città, quando entriamo oggi c'è un pochettino di disordine, quindi facendo questo ampliamento, questo dehors di accoglienza, sicuramente anche la città ci guadagna. Da quel punto partirà anche una pista ciclabile che sta progettando sotto nostra osservazione l'ADR, quindi la varanda a spese loro, una pista ciclabile che porterà direttamente dentro l'aeroporto, quindi anche di questo vogliamo ringraziare l'ADR che collabora insieme a noi su questo progetto molto importante. Via Torre Clementina che è stato realizzato, lavori sono stati realizzati fino all'altezza della passerella pedonale, c'è tutto per arrivare via al porto del canale da sistemare? Torre Clementina c'è una grande novità, noi avevamo previsto questo intervento nel 2020, ma abbiamo corso con il progetto, pertanto siamo già pronti, stiamo andando in Consiglio Comunale nella prossima settimana, nei prossimi giorni, per anticipare il progetto, per anticipare i lavori di questo progetto dal 2020 al 2019 come finanziamento, quindi questo ci permetterà di andare a chiedere il mutuo ed andare in gara già i primi mesi del 2020 per poter iniziare i lavori subito dopo l'estate, questo è un po' lo schema dei lavori, la tabella di marcia. È un lavoro che parte da Piazza Grassi fino a Via del Canale, una ristrutturazione come è stata fatta per la prima parte con qualche novità sulla parte dove andiamo a toccare. nuova viabilità, Via della Spiaggia sarà in parte pedonale, di fronte alla passarella ci sarà una parte rialzata dove le macchine sono costrette ad andare a velocità ridotta e permettere così ai pedoni di utilizzare quell'area in maniera un po' più omogena. Lo spostamento dei chioschi da una parte all'altra del marciapiede in modo che qui la passeggiata sul lato destro, lato disco rosso, lato cielo, chi è di più fino mi capisce su quello che stiamo dicendo, dedicare quello spazio a passeggiare, dedicare quello spazio ad eventi, farlo soffrire dai nostri concittadini in maniera omogena. Quindi poi più avanti, fino ad arrivare a Via del Canale, sarà tutto quanto un lavoro di ristrutturazione, di rimessa nuova delle strade. Bene, per concludere vogliamo chiedere una cosa, sappiamo che ci sono anche altre novità. Sì, nei prossimi giorni vediamo l'apertura del corridoio C5, proprio oggi abbiamo gli operai che stanno completando le opere su quell'arteria, quindi quello servirà come sfogo anche a chi transita su via dell'aeroporto. Poi abbiamo una serie di interventi anche nelle scuole, dove stiamo realizzando una nuova palestra, la scuola nuova in Vigia Conizzugna, ma la cosa che partirà tra breve è la ristrutturazione delle palestre della Lido Faro e della scuola Marchia Fava a Maccarese. Nei prossimi giorni partiranno i lavori anche su Passo Scuro, dove è previsto un riassetto della strada di entrata con dei parcheggi in via San Carlo a Palidoro. Anche in quel punto andremo a fare dei lavori di abbellimento, per poi passare al cimitero di Palidoro, lo spazio antistante al cimitero di Palidoro, dove sistemeremo tutta l'area antistante al cimitero. Quindi ci sono una serie di interventi, tanti altri interventi, con un po' di sforzo, con un po' di tempo, stiamo arrivando all'esecuzione dei lavori. Bene, la ringraziamo e può andare al lavoro direttamente, così cominciamo. Grazie, grazie.